Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi Ben ritrovati, è dei giorni scorsi la notizia della scomparsa di Nick Heyman dopo una malattia ebbene nel corso delle ore e proprio dei giorni successivi all'annuncio sono arrivati anche commenti e racconti su questo artista che è icona degli anni 80, ad esempio Madonna ha ricordato l'amico attraverso alcune parole pubblicate sul proprio profilo Instagram dove si è letto, è straziante sapere che te ne sei andato, sei sempre stato un essere umano gentile e dolce e hai sofferto troppo spero che tu sia più felice ovunque tu sia, ha scritto la star ricordando l'amico e collega ha scomparso 59 anni a causa di un tumore. Nick Heyman è diventato noto al grande pubblico grazie a uno spot di jeans, lo ricordiamo, beh in quell'occasione Madonna lo aveva notato e si era offerta di produrre per lui il suo primo singolo Each Time You Break My Heart, da lì iniziò un percorso professionale ricco di soddisfazioni, la loro intesa professionale venne però spessa vista come qualcosa di più profondo e in molti ipotizzarono anche una relazione sentimentale tra i due, Madonna all'epoca era sposata con Champagne che era gelosissimo e non vedeva certo di buon occhio il legame con Nick Heyman. Ben altro ricordo quello invece nelle parole di dolore della fidanzata e compagna Lucinda Carey che ha raccontato la battaglia dell'ex modello contro il cancro, gli ultimi momenti della sua vita, il modo in cui con coraggio ha affrontato la diagnosi terribile. La Carey, montatrice e regista, è stata legata per 15 anni all'ex cantante, insieme a lui ha affrontato la prova più dura quando tre anni fa i medici gli hanno diagnosticato la malattia in stadio terminale. Lucinda ha spiegato in una lunga intervista al mail online che Nick era consapevole di quale fosse il suo destino, ma nonostante ciò era sereno. Nick era una persona incredibile, ha svelato, è stato davvero stimolante stare con lui durante la sua malattia. Tante le emozioni negli ultimi tre anni, ma di sicuro non avrebbe potuto vivere con più rispetto e dignità. Per ricordarlo abbiamo scelto un brano del 1988, Tell Me, che era tratto dall'album US e lo abbiamo scelto proprio perché la cantante Madonna vi partecipa come seconda voce. Nella extended version invece, pubblicata sul singolo Maxi e nell'album Loving You, ecco che canta il ritornello da solista verso la fine della canzone. In alcuni brevi passaggi sono presenti anche cori del cantante David Williams che è tra i produttori e autori della canzone. Nel Regno Unito fu pubblicata come 12 pollici con un mix comprendente anche la versione dub mix dove sono principalmente utilizzati i propri versi della cantante Madonna. In Italia invece, nazione in cui il cantante britannico in quel momento stava conoscendo il punto più alto della propria popolarità, beh il brano fu un tormentone estivo del 1988, fu infatti in vetta alla classifica settimanale da giugno ad agosto e fu anche il secondo singolo più venduto dell'anno alle spalle solo di I Don't Want Your Love dei Duran Duran, brano poi entrato in classifica nell'autunno ma con volumi di vendita superiori a quelli del brano del singolo di Nick Heyman. Beh noi ora vi lasciamo proprio a Telmy per ricordare l'artista.